ciao ciao amici ben ritrovati nel canale allora oggi continuiamo con le nostre dediche e abbiamo qualche bigliettino da dedicare ok sono tre biglietti da 5 per il momento lo vediamo se continuiamo però vediamo un po allora incominciamo oggi incominciamo dalla tombola dai allora la tombola la super tombola richiesta da allora da mickey46 ciao mickey io lo so che tu vuoi il numero 24 però il 24 è difficile a trovarlo oggi mi è capitato il 46 allora ho pensato dato che ti chiami mickey46 oggi cambiamo un po poi il 24 lo prendiamo quando lo troviamo ok allora questo è il biglietto della serie 87 numero 46 allora come il tuo numero mickey46 spero che sei d'accordo con la mia ipotesi qua ok allora vediamo un po se aggiungiamo vediamo un po che ci dice allora buona visione a mickey buona visione a tutti perché non so con i numeri specifici è difficile che si trovano bene ok penso che così va bene allora passiamo la nostra cattata primo numero abbiamo il 34 eccolo qua poi segue il 25 che non c'è poi abbiamo 82 non c'è 58 non c'è abbiamo 26 eccolo e 41 e 41 non ce l'abbiamo segue 27 no niente e 72 si abbiamo il primo ambo ok abbiamo 42 32 non c'è 37 c'è secondo ambo qui abbiamo 79 niente e 51 eccolo qua 88 niente 69 terzo ambo ecco qua abbiamo fatto i nostri anni ma vediamo che si decidi 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 dare qualcosa abbiamo 61 non c'è e 13 neanche niente carissimo per il momento il biglietto non è vincente adesso passiamo al premio tambolino che sono 10 euro ok vediamo un po chi dice 500 mila 500 50 e 50 niente non abbiamo fatto niente vediamo con la stella panettone e caffello caffello di babbo natale e purtroppo questo biglietto non è vincente carissimo vicky sarà buona la prossima volta ci riproveremo ok ok passiamo al prossimo biglietto una battaglia navale richiesto da michela parlanti ciao michela tu anche mi hai chiesto il numero 11 però niente di fatto e allora questo è il numero 44 della serie 10 eccolo qua vediamo un po i gatti che ci dicono forse devo stringere un po troppo ok bene allora vediamo prima coordinata abbiamo a4 colpita h5 ok d4 c'è qualcosa c'è qualcosa guardiamo f2 acqua a6 poi abbiamo e5 acqua acqua a2 e5 e5 acqua acqua h2 anche acqua oddio tutta acqua poi a3 e questa quella grande ultima coordinata d5 niente 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 carissima e niente col filo però non abbiamo affondato niente passiamo alla ricerca dello scrigno , con ok tutta acqua 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 acqua, niente scrigno ok allora cara, michella, il guglietto non vincente sarà per la prossima volta ok allora passiamo a tutto e per tutto richiesto da Verossetina non so se pronuncia bene il tuo cognome Verosset Verosset o Verosset? vabbè Verossetina, ciao Tina ecco qui il tuo biglietto della serie 1 è il numero 53 ok vediamo un po' il tutto e per tutto che ci dice ok allora numeri vincenti abbiamo eccoli 18, 13, 31 e 22 bene primo numero 33 e abbiamo 51 no scusate 25 quale 51? 25 25 ok poi abbiamo 41 c'è il 31 e 28 niente di fatto così è che il 23 e abbiamo il 22 11 niente 45 non c'è ah 22 l'abbiamo preso le bavarelle l'abbiamo preso oggi ok allora poi abbiamo 36 niente 46 neanche 30 non c'è e 14 abbiamo il 13 ok 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 allora abbiamo preso il 22 le bavarelle che dice 5 euro per 1 ecco qua 5 euro abbiamo ripreso il biglietto vabbè comunque non è perdente carissima Tina e vabbè pazienza certo non è che si può vincere sempre ogni giorno qui 5 euro di recupero va bene anche così ok adesso ci mettiamo ancora ci mettiamo un miliardario ci mettiamo un miliardario qui non ho una richiesta precisa ce l'ho lo dedico a tutti ecco allora questa serie 18 numero 27 vediamo un po' che ci dice il miliardario primo numero 14 15 17 19 e 36 oddio i numeri vincenti cioè sono questi adesso passiamo ai nostri numeri ecco qua 16 tanto per andare vicino no? però non colpire niente 34 26 12 vedete muoescono tutti meno di quelli 42 niente 38 11 vedete cosa aveva detto 13 anche però non ci abbiamo 14 23 non c'è e 17 meno male uno l'abbiamo preso poi abbiamo 17 due volte bene così 27 non c'è 43 non c'è 39 no ultimo numero 21 niente allora abbiamo cosa abbiamo due volte e 17 vediamo 10 20 euro bene bene così ok vedete i biglietti che dedico a voi tutti mi portano fortuna sempre ok continuiamo così carissimi ok allora con il miliardario che abbiamo detto serie 18 numero 27 San Paganino e abbiamo preso 20 euro ok allora oggi cosa abbiamo fatto abbiamo cattato quattro bigliettini dei quali due vincenti e due vincenti allora abbiamo preso 20 euro col miliardario e 5 euro col tutto per tutto carissimi amici intanto vi ringrazio per la visione vi mando un grosso bacio un abbraccio e vi do fondamento al prossimo video ok e speriamo che la ruota della fortuna continua a girare nel positivo bene così ciao ciao a tutti al prossimo video ciao a tutti